Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale Oggi ragazzi vi porto la duplicazione massiva all'after patch e oggi vi farò vedere i due metodi per buggarsi Quindi ragazzi i requisiti, ci servirà un amico che ci da una mano, ci servirà un veicolo personale attivo Per chi si bugga ragazzi, ci servirà l'agenzia con un veicolo all'interno Dopodiché ragazzi ci servirà per chi invece deve duplicare l'arena con all'interno il veicolo da duplicare I veicoli da sacrificare dove gli pare ragazzi sparsi nella mappa in un qualsiasi garage ragazzi E ci servirà anche il bunker con il com perché per salvare ogni volta bisognerà usare il com Faremo un veicolo ragazzi ogni 20-30 secondi con la targa pulita ed è una bomba Quindi vi faccio vedere il primo metodo ragazzi per buggarsi Il primo metodo funziona così, dobbiamo intanto preiniziare metterci il rientro dentro l'agenzia ragazzi È fondamentale, dobbiamo spawnare all'interno dell'agenzia Una volta che ci siamo messi il rientro dentro l'agenzia cosa facciamo? Ci facciamo un salvataggio dell'outfit ragazzi Così farà il cerchietto arancione in basso a destra e a quel punto potremmo andarcene al creatore Una volta raga che stiamo andando al creatore gli diciamo poi al nostro amico di rinvitarci nella stessa lobby In modo tale da spawnare dentro l'agenzia ragazzi Quindi mi manderà l'invito, io accetterò l'invito, mi arriverà l'allerta ragazzi E una volta che siamo spawnati dentro l'agenzia Cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo dirigere ragazzi dalla reception Ma prima dobbiamo mandare al deposito il veicolo personale In modo tale da avere la voce richiedi veicolo attivo Quindi andiamo di sotto dalla reception E una volta che siamo sotto dalla reception Andiamo qua davanti al bancone in modo tale da avere la freccia destra in alto a sinistra A questo punto apriamo il telefono Andiamo sulle attività quindi qua dall'icona blu Andiamo su altro e avviamo braccio di ferro ragazzi Una volta che avviamo braccio di ferro con amici sessione O no è indifferente ragazzi, non cambia Dobbiamo aspettare che ci dà il popolamento uno di due in basso a destra Ci vogliono circa 15 secondi ragazzi A questo punto cosa facciamo? Apriamo il nostro menu interazione Andiamo a richiederci ragazzi il veicolo personale Subito dopo dovremo schiacciare freccia destra E poi spammare A per accettare l'uscita del veicolo personale con l'agenzia Questo step ragazzi va fatto tutto veloce Saremo in questa schermata ragazzi E a questo punto cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo fare invitare da un nostro amico che sta nel lavoro da titano Nella stessa lobby Quando siamo nella prima allerta gli diciamo di quittare l'attività E a questo punto accettiamo tutti gli altri messaggi ragazzi Niente di più semplice Gli spawneremo all'interno dell'agenzia Adesso cosa dobbiamo fare ragazzi? Gli diciamo al nostro amico di avviare un lavoro da titano Una volta che il nostro amico avvierà un lavoro da titano Ci dovrà invitare dentro l'attività Perché i ragazzi hanno patchato il metodo per partecipare direttamente sulle attività dalla mappa Infatti se guardate mi dà questa allerta Quindi una volta che il vostro amico ha fatto il lavoro da titano Vi fate invitare Quindi ci manderà l'invito tramite menu xbox o menu ps Quando siamo in questa allerta ragazzi Gli diciamo di quittare l'attività Ci darà questo errore ragazzi E spawneremo frizzati Nel punto di attivazione del lavoro da titano Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Gli dite al vostro amico ragazzi Di avviare l'attività più vicina possibile all'arena In questo caso il mio socio mi ha avviato di nuovo il lavoro da titano E quindi poi io rispaunerò qua Ma io vi consiglio di dire al vostro amico Di avviare l'attività più vicina possibile all'arena Quindi una volta che ha avviato l'attività Vi invita ragazzi A quel punto accettate l'invito Quando siete nella prima allerta Questa qua Gli dite di quittare l'attività ragazzi E a questo punto quando lui quitta Noi accettiamo tutti i messaggi E sbada bam ragazzi Saremo pronti e buggati Per far duplicare il nostro amico Come facciamo a capire se siamo buggati al 100% Saliamo sul veicolo del nostro amico ragazzi Gli diciamo di mandare al deposito il veicolo Se a noi rimaniamo ancora sul veicolo E quando scendiamo noi schiacciando triangolo Y Despauna subito Vuol dire che ci siamo buggati Nella maniera corretta ragazzi Quindi adesso passiamo al secondo metodo Che è molto più veloce ragazzi Eccoci qua Quindi per buggarci Nella maniera più veloce possibile Per duplicare con questo metodo ragazzi Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo possedere il festival bus Quindi dobbiamo richiedere il festival bus Che deve stare nel CEO Quindi ragazzi Come requisito Per buggarci in questa maniera Ci servirà il CEO Con il festival bus all'interno E no l'agenzia A questo punto Una volta che abbiamo richiamato Il festival bus Cosa facciamo? Lo facciamo entrare nello stesso piano Raga di dove siamo entrati A questo punto Dobbiamo aspettare Che si bugga Questa schermata nera Potete aprire anche Il menu di pausa Se volete ragazzi Quindi Dite al vostro amico Di avviare il lavoro da titano E una volta che è avviato Il lavoro da titano Gli dite di invitarvi O dal menu play O dal menu xbox ragazzi Oppure Se siete nella stessa lobby Potete anche fare partecipa Dal menu di pausa Se l'avete aperto A questo punto Quando siete in questa allerta Dovete dirgli Di quittare l'attività E accettare tutti i messaggi Se invece Giocate da playstation Partecipate su anawak Accettate tutti E tra i messaggi E vi sarete Buggati facilmente Ragazzi Quindi a questo punto Cosa dobbiamo fare Per capire Se siamo buggati Raga Dobbiamo farci Invitare Dentro l'arena Dal nostro amico Per forza Perché questo step È fondamentale Per finire Il bug Quindi mi faccio Invitare nell'arena Apro il telefono Accetto l'invito Dell'arena E aspetto di spawnare All'interno dell'arena Una volta che sono All'interno dell'arena Ci sarà già il mio amico Lì dalla porta Per uscire Che appena io entro Raga Lui farà Tutti fuori Così usciremo Direttamente Tutti e due E adesso Dobbiamo fare Il test Per vedere Effettivamente Se siamo buggati Saliamo sul veicolo Ragazzi E diciamo Di mandarlo al deposito Se non ci caccia Dal veicolo Rimaniamo sopra Vuol dire Che ci siamo Buggati E a questo punto Potremmo iniziare A far duplicare Il nostro amico Adesso ragazzi Vi faccio vedere La parte Di chi duplica Ringraziamo Ringraziamo Tutti quanti Il Sifu Ragazzi Che si è Buggato Al posto Mio Così io Vi faccio vedere Come fare la parte Di chi duplica Quindi iniziamo Subito ragazzi Mi cambio L'outfit Così magari Non vi confondete Cosa dobbiamo fare Andiamo a Chiamarci Il centro operativo Mobile È fondamentale Quindi Andate a Chiamare il centro operativo Mobile Ve lo andate A prendere Ragazzi E poi Lo posizionate Dove lo metterò Io Portatevi anche Il vostro amico Così non lo lasciate Solo E non si sente Usato Ragazzi A questo punto Una volta preso Il com E messo In questa posizione Scendiamo ovviamente Dal centro operativo Mobile Apriamo il nostro Menu interazione E ci richiediamo Un qualsiasi Veicolo Personale Ragazzi Se usate Il motorcycle club È meglio Così mettete Un veicolo E non dovete Attendere Secondi O minuti Per richiedere I veicoli Uno dopo l'altro Quindi A questo punto Fate salire Il vostro amico Sul vostro veicolo Che sia una moto Dal motorcycle O un veicolo Personale O lo speedo custom Ragazzi E dovete Mandare Al deposito Il veicolo Se ci avete La polizia Levate Ma la raga Perché se no Rischiate di sbagare Il glitch E quindi A questo punto Rimandiamo Il veicolo Al deposito Il nostro amico Come vedete Rimarrà sul veicolo E quindi Noi potremo andare A duplicare Cosa facciamo Entriamo dentro L'arena Vi consiglio Di mettere Il veicolo Da duplicare All'interno Del B1 Perché ragazzi Perché almeno Non ci sarà L'animazione Dell'officina Quindi a questo punto Una volta salito Sul veicolo Da duplicare Raga Schiacciamo Freccia A destra E saremo Nel menu Delle modifiche Ci facciamo Una qualsiasi Modifica Ai freni Che costano poco Intanto Guardate la targa Ragazzi Perché ora È in questa maniera E dopo vi faccio vedere Che cambierà Quindi una volta Fatta la modifica Attenzione qua Dovete fare Esci dall'arena Dovete andare Direttamente fuori Ragazzi Perché se fate Esci dall'officina Avete sbagato Tutto A questo punto Una volta Che siamo qua Vedete che la targa Inizia con 6 Ragazzi Dovremo andarci A richiedere Il veicolo Da sacrificare Il veicolo Da sacrificare Se avete fatto Delle aggiunte Dell'axo Ragazzi Col money freeze E le andate A sacrificare Le vostre Varranno 3 milioni 8 Quindi a questo punto Cosa facciamo Aspettiamo Ragazzi Il tempo Per richiedere Il veicolo Questo è il discorso Che vi facevo prima Se avessi usato Il motocycle Non dovevo Attendere niente E potevo richiedere Il veicolo Da sacrificare Immediatamente Quindi a questo punto Dopo che è passato Il timing Chiamo il veicolo Da sacrificare E faccio passare 3 o 4 secondi Intanto mi avvicino Ragazzi Dal mio socio Così vi faccio Vedere bene A questo punto Gli dico Di scendere Regà Dal festival bus Dal veicolo Personale E appena Lui scende E sbadabamme Regà Sarà cambiata La targa Quindi avremmo fatto La issia 3 milioni e 8 Con targa pulita Entriamo dentro Il centro operativo mobile E così Avremmo salvato L'auto Come facciamo Se vogliamo Continuare a duplicare Ragazzi Salite sul veicolo Ragazzi Lo portate Dal vostro amico Lo fate salire Lo mandate Al deposito E vedrete Che lui rimane Bagato A questo punto Correte dentro L'arena Una volta che siete Nell'arena Andate nel garage Dove avete Il veicolo Da duplicare Salite sul veicolo Da duplicare Ragazzi Schiacciate Freccia destra Fate una modifica Fate esci Dall'arena Una volta fuori Dall'arena Vi richiamate Il veicolo Da sacrificare E una volta Che vi siete Chiamati Il veicolo Da sacrificare Ragazzi Aspettate circa 3 o 4 Secondi Dopodiché Dite al vostro amico Di scendere Dalla macchina Cambierà la targa Del veicolo Ragazzi E una volta Che la targa Cambia Entrate All'interno Del copo Quindi Lasciate un like Se vi è piaciuto Il video Lasciate un commento Supportate il canale Vi invito A supportare La nuova serie E sbada Bam Alla prossima Bella Regà Ciao